Una serata di lode e di preghiera in onore della celeste patrona della città di Verona, la Madonna del Popolo. L'appuntamento è nel grande spazio all'aperto del centro Monsignor Carraro di Lungadigi a Tiraglio, venerdì sera. Innanzitutto la nostra diocesi vive un momento di grande gioia, il giubileo della Madonna del Popolo. È stata concessa alla cattedrale l'indulgenza plenaria per il mese di settembre per tutti coloro che andranno in pellegrinaggio. Abbiamo voluto estendere la cattedrale fino al Carraro, invitando tutti quanti i consigli pastorali, gli operatori pastorali, i parroci, i sacerdoti, a condividere con il Vescovo l'Eucaristia dedicato proprio alla Madonna del Popolo, chiedendo l'indulgenza plenaria per tutta la diocesi e nello stesso tempo inizia l'anno pastorale. Come sarà quest'anno pastorale particolarissimo, pieno di novità, pieno anche di paure? Andrà tutto nuovo, è quello che ci siamo detti più volte. È chiaro che siamo di fronte a un reale cambiamento d'epoca. La nostra diocesi vive, come tutta la Chiesa, un passaggio straordinario. E di fronte a questo passaggio ordinario occorre la pace, la calma, ma soprattutto la condivisione e il discernimento per saper fare scelte nuove. Le cose nuove non nascono perché si fanno grandi invenzioni, ma perché iniziano con il passare del tempo, con il vivere insieme, con il condividere. La nostra diocesi si era data come obiettivo in questo anno pastorale il verbo condividere. Ecco, quest'anno vorremmo prenderci un tempo calmo, di condivisione, insieme con più parrocchi, insieme con le unità pastorali, perché si possono fare scelte secondo i tempi e i segni dei tempi che il Signore ci sta dando in questa particolare situazione complessa che stiamo vivendo. Grazie.